Ho il piacere di invitarvi alla prima conferenza internazionale dedicata alla relazione microbiota e oncologia clinica, ma non solo clinica, che terremo il 21 e il 22 di novembre di quest'anno all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. È il primo incontro a livello internazionale, come dicevo, totalmente dedicato alla relazione tra microbiota, intestinale ma non solo, e oncologia e cancro, valutato nei suoi aspetti di relazioni non solo legati alle terapie, quindi a chemioterapia, a radioterapia, a chirurgia, a immunoterapia, ma anche alle relazioni dei possibili effetti collaterali e benefici che si possono trovare con un contesto di simbiosi e non di disbiosi, cioè non di patologia, della nostra flora batterica intestinale e non. Questo convegno è essenzialmente dedicato a preclinici, microbiologi, biologi, ma soprattutto clinici in ambito dell'oncologia medica, dell'oncologia chirurgica, dell'oncologia radioterapica, ma anche a esperti di settore quali ad esempio gli analisti, perché ovviamente l'analisi del microbiota, che è molto più consistente in termini numerici rispetto al numero di cellule che convivono nel nostro corpo, merita una grande attenzione, una grande novità proprio in ambito analitico. Quindi affronteremo le tematiche dal punto di vista, dicevo, preclinico, quindi studi a livello cellulare, ma anche a livello animale e infine affronteremo la tematica delle esperienze cliniche in oncologia. Esperienze cliniche che sono in netta crescita, se pensiamo che la letteratura inerente, il microbiota, negli ultimi 15 anni, ammonta circa 50.000 lavori pubblicati, dei quali in oncologia solo il 7%, circa 4.000, e di questi 4.000 circa la metà sono stati pubblicati negli ultimi due anni. Quindi è chiaro che il convegno è dedicato essenzialmente a neofiti, come siamo noi in oncologia, rispetto ad esempio ai gastroenterologi, dove la cultura del microbiota è una cultura già approfondita ed è per questo che, fra parentesi, in ambito di cancro colorettale possiamo parlare di stato di avanzamento della relazione microbiota e cancro del colorretto anche in termini di tumorigenesi. Quindi la tematica è particolarmente affascinante, per cui siamo molto contenti di poter fare questo primo congresso internazionale in Italia, dedicato interamente all'oncologia e, ripeto, analizzando, cercheremo di analizzare gli aspetti legati alla chirurgia, all'oncologia medica, all'oncologia radioterapica e non in ultimo per importanza anche all'immunoterapia, perché sappiamo quanto il microbiota possa influenzare o direttamente o indirettamente, indirettamente con i suoi metaboliti, ma anche direttamente lo sviluppo dell'infiammazione o lo spegnimento dell'infiammazione e la tumorigenesi stessa. Ed inoltre affronteremo anche il tema particolarmente importante delle tossicità correlate alle terapie oncologiche. Vi aspetto quindi a novembre a Milano, l'Istituto Nazionale dei Tumori, assieme al nostro direttore scientifico che ha sostenuto e promuove in maniera fattiva e entusiastica questo evento. Grazie a tutti.